in questa nuova puntata di pomeriggio con il talento oggi ho l'opportunità di andare a fondo su una band su una band che sta facendo successo basta insomma seguirli un po sentirli anche io ho avuto la grande possibilità di ascoltare il loro cd e vi consiglio veramente di andare a fondo oggi infatti ho qui con me giulio che è il cantante di una band chiamata belzer e che oggi ci presenterà anche il loro nuovo progetto musicale ciao giulio ci senti ma grazie a te per aver accettato un piacere bene allora parlaci un po di questa band che almeno a noi qui a radio smeraldo ha intrigato veramente tanto siamo molto contenti di questa cosa infatti è stato molto bello venire in contatto con voi vedere questo entusiasmo ai nostri confronti noi siamo una tenda che lavora da ormai dieci anni e più attraverso vari campi di formazione e abbiamo lavorato su vari progetti musicali ma abbiamo fatto delle mie tre in passato poi un album nel 2009 che ha ricevuto delle critiche che ci hanno incoraggiato e con l'ultima formazione abbiamo lavorato su questo ultimo album che si chiama piccoli oggetti meccanici che è uscito un mese fa proprio in corrispondenza della presentazione ufficiale che abbiamo fatto in un locale teatro qua diceva ma che si chiama la clac ed è un progetto in cui crediamo molto in cui abbiamo investito molto come fatica abbiamo preparato in un arco di tempo durato tre anni abbiamo avuto la possibilità di avere collaborazioni importanti primo su tutti mauro sappione l'ex mattia bazar e collaboratore con il sfida che ha prestato le sue meravigliose tastiere post moderne su un paio di brani dell'album e poi marco fada un grandissimo professionista delle percussioni che ha lavorato con oxa fossati mario violi tantissimi professionisti e quindi un progetto in cui crediamo molto insomma bene e quando hai deciso di fondare questa band no come ti è venuta questa idea è nata come esigenza perché io ho lavorato avevo iniziato a suonare con tante dente quando ero quando ero adolescente in avanti e nel frattempo lavorando su grandi originali di queste danni in cui io non in cui io non cantavo ma facevo solo strumentista a seconda delle tende su una volta stiere o il basso la chitarra arrangiando questi pezzi ho iniziato a scrivere dei brani miei che non trovavano perfettamente spazio nei repertori altrui e quindi col tempo avevo un canzoniere così nutrito e corposo che ho deciso che era il momento di iniziare a mettermi in proprio a lavorare sui miei pezzi e così ho iniziato a contattare studi di registrazione per iniziare a registrare ho conosciuto dei musicisti il primo di tutti è anche quello che adesso è il componente più longevo del gruppo cioè Guido Bruzzone Semino che è il bassista e poi attraverso vari movimenti e cambi di formazione siamo arrivati alla formazione attuale che comprende anche Massimo Iama Breveglieri alla chitarra e Luciano Zambito alla batteria che fa tutto il trame bene e come è stato per te iniziare a scrivere musica? è stato come un gioco io avevo lo paragono proprio a come quando era piccolo giocavo con il ledo mettevo insieme dei pezzetti mi costruivo qualcosa di nuovo che non era previsto nella scatola ed è un po' una cosa del genere cioè prendo tanti stimoli dalla musica che mi circonda che mi fanno venire voglia di creare qualcosa di mio spinto da questi stimoli e mette insieme qualcosa che prima non c'era per me è una... proprio va a cercare quella parte di creatività che mi rendo conto di aver sempre avuto ma oggi è il modo di... il modo espressivo che mi stimola di più e che mi soddisfa di più quando finisco una canzone è un momento di grande gioia per me e da chi... da chi sei ispirato? c'è qualcuno magari... anche chi non è famoso magari un componente della famiglia, un amico che ti ha sempre ispirato a scrivere, a fare musica? dunque, diciamo che l'ispirazione è venuta tramite persone che non conosco di persone certo, grandi artisti come Frevi Mercoli e tu soprattutto perché i Queen mi hanno aperto la passione verso la musica pop rock però posso citare come persona che conosco che mi ha... diciamo molto accresciuto la cultura musicale mio fratello, io credo che ogni musicista abbia un fratello maggiore che ha un fratello naturalmente che ha formato la sua cultura musicale tramite gli ascolti, a volte forzati, in camera e però mi rendo conto proprio che grazie agli ascolti che lui faceva ho assorbito tantissima musica e che oggi la uso per avere spiegazione, per comporre, per avere delle idee, degli stimoli e quindi direi che forse la persona più prossima è lui bene, parlaci un po' del vostro album sì, Piccoli Agenti Meccanici raduna una serie di canzoni che ho scritto negli ultimi anni che hanno come tema comune, diciamo, le condizioni che la nostra mente, la nostra vita riceve in maniera involontaria i condizionamenti soprattutto a livello sociale, a livello psicologico, a livello emotivo siamo sempre condizionati da qualcosa ma spesso non ce ne accorgiamo e mi sono reso conto che avevo scritto diverse canzoni che parlavano di questo tema prima tra tutti la title track, i piccoli oggetti meccanici e questo concetto mi piaceva così tanto che ho deciso di mettere insieme tutte queste canzoni che parlavano di questo aspetto e quindi lo chiamo non concept perché non è un vero concept però, cioè, non è nato con quest'idea però lo è diventato radunando dei pezzi che erano la stessa tematica ma troviamo una tematica interessante anche perché, appunto, anche a livello psicologico spesso certe reazioni che abbiamo non sono naturali nostre magari sono state assorbite da comportamenti altrui beh, insomma, c'è tutta una filosofia sotto ed è questo forse che, almeno al mio ascolto, l'ha reso molto interessante beh, sono molto contento di questo se può stimolare le riflessioni in altre persone per me è una vittoria questa quindi sono molto contento se questo avviene bene, e se non avessi fatto musica cosa avessi fatto? il disegnatore di fumetti perché avevo, ho fatto degli studi artistici ho fatto sia l'uniceo artistico che l'Accademia di Belle Arti e il mio primo stimolo, la mia prima fonte di soddisfazione come parlavo prima, era proprio il disegno però col tempo, soprattutto quando sono arrivato al periodo dell'Accademia di Belle Arti il disegno iniziava a perdere di stimolo non avevo più dato stimoli verso quello e la musica invece stava spingendo sempre di più e così ho iniziato a studiare musica come studiare canto, parallelamente ai studi artistici e dopodiché ho capito che quella era la mia strada ma ho avuto anche un po' la fortuna che la vita mi abbia vinto in quella direzione perché insomma la parte artistica del disegno non dava tanti stimoli e spunti dal punto di vista lavorativo mentre invece la musica finora, teniamo dei dita incrociate ci fa dando delle soddisfazioni bene, sono molto contenta per questo e vediamo insomma, ultimamente si parla molto dei talent tu che insomma di musica te ne intendi ormai sono più di dieci anni indicativamente e cosa pensi dei talent? cioè secondo te è giusto accanirsi in questo modo contro di loro? guarda, dipende da quale è la persona che si rivolge a un talent e da quale sono le sue aspirazioni perché ci si aspetta che un talent ti svolti la vita succeda a uno sui numeri dei partecipanti del talent quindi diciamo che da una parte capisco molto il meccanismo del talent come nasce, come si sviluppa in quest'epoca è un modo per tenere viva la musica in un'epoca in cui l'interesse verso la musica insomma è a volte scema un po' dall'altra parte non bisogna secondo me riporre troppa fiducia e troppe speranze in un concorso ma bisogna farne tanti perché alla fine la tanta esperienza è quello che poi ti porta a formarti come artista bisogna sempre pensare a sviluppare la propria professionalità il talent è uno dei modi per farlo ottimo, è stata una risposta esastiva io ti ringrazio di cuore perché insomma ci hai dedicato questo tempo per parlarci anche del vostro progetto e soprattutto per esprimere anche diverse opinioni sono io che ringrazio voi dello spazio che ci avete concesso per noi sarà sempre un piacere ospitarvi qualunque sia la novità e insomma in bocca al lupo a te e tutta la tua band perché ve lo meritate grazie mille, crepi il lupo se mi dà ancora un secondo invito tutti quanti a venire a trovarci sul sito www.belzer.it dove potete scaricare gratuitamente il nostro singolo ignorante con Mauro Sappione a ospital e tastiere e magari vi potrà piacere questo perfetto quindi ragazzi mi raccomando ve lo ripeto anch'io tutti sul sito dei Belzer fidatevi ne vale la pena Giulio io ti ringrazio sei stato gentilissimo grazie mille a te e della vostra gentilezza e della vostra ospitalità ancora una volta ciao buona giornata anche a te ciao oggi qui con me ho anche un'altra band una band che abbiamo avuto la possibilità di conoscere diciamo anche nel salotto della De Filippi ma soprattutto per chi la segue e vi consiglio di seguirla proprio su facebook è una band delle meraviglie oltre ad essere molto bravi sono anche molto disponibili infatti stasera qui con me ho le fasi ciao ciao buonasera buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Smeraldo ciao carissimi allora vi sento carichi come state? eh sì siamo benissimo siamo sempre in giro abbiamo finito da poco le prove e quindi tra un po' saliremo sul palco e quindi siamo tutti belli carichi dai dai e allora presentatevi forza allora sottoscritto geniarincio buce poi c'è exo servo batteria antreno buoso batto ed è il resto borruto che è facendo i suoni vedete bene allora ragazzi raccontateci un po' come è nata questa band allora nasce nel lontano 2012 nel giugno 2012 in realtà ci conoscevamo già tramite facebook ma soprattutto tramite vecchie come dire vecchie situazioni musicali anche venendo da cover eccetera in realtà ci conoscevamo io exaltante quindi e il batterista già da tempo già suonavamo da sei anni o poco più e poi ci siamo incontrati su facebook da cosa nasce cosa e non ci siamo più lasciati quindi attivi diciamo allora diciamo che i lati positivi ce ne sono tantissimi i lati negativi non ce ne sono per niente almeno per voi poi non so perché in realtà la cosa bella di una band è farla diventare una famiglia e non un lavoro come dice anche Figgio in pratica proprio come il succo potrebbe essere questo ma in realtà dopo esserci ormai conosciuti musicalmente abbiamo abbiamo deciso di creare questa sorta di famiglia quindi di lati negativi non ce ne sono oppure se uno è quello di sopportarci bene e come è stato? ve lo ricordate la prima volta che vi siete esibiti tutti insieme? eh sì la prima volta lo scattavo la parola questo attonello che allora no certo che la prima volta ce la ricordiamo infatti se te ci fai caso il nostro luco è un sorrisino sì il sorrisino nasce perché il primo brano che abbiamo fatto insieme è stato un brano nostro che si chiama sorrisi e quindi da lì ce lo siamo impressi nella mente tra poco ce lo tatuiamo quante quindi siamo a posto bene qualcuno di voi ne ha già qualche tatuaggio eh sì parecchio allora c'è penso che ha quanti tatuaggi hai amore per ora solo tre ma ne avremo trecento allora ci sono tre tatuaggi ma anche altri tre l'unico che non è ancora dato l'altro io anche il resto non è l'unici due che non hanno dato l'altro ci fuggi è una possibilità è una domanda da un milione di dollari anche un po' cattivella allora praticamente il video con amici è nata a novembre cioè non abbiamo quanto solo una sfida ma in realtà è sulla nostra pagina facebook potrai o potrete tutti gli ascoltatori e coloro i quali vogliono aggiungerci tra le loro amicizie e ovviamente guardate su facebook queste pubbliche sono culta fate fate pubblicità che a noi ci piacciono le persone sincere non la dicevamo che è nata a novembre quindi abbiamo fatto tutto il nostro percorso di casting poi siamo arrivati a no era marzo dove poi a metà febbraio sì scusatemi a metà febbraio abbiamo sfidato Lele e quindi è stata una sfida abbastanza tosta perché comunque Lele è bravo il pubblico ovviamente non conoscendoci è stato poi così sportivo però dai è stato alle quattro anni del gioco io volevo dire proprio questo fa parte del sport scusate comunque ragazzi come vi sentite quando suonate tutti insieme magari c'è un momento in cui vi guardate e pensate mamma mia siamo arrivati fino a qua aspetta c'è Antonello che non ti assicuro cosa però non capisci nulla è tutta una dimensione particolare dove tu parti vivi oltre per le risate oltre per il fatto che comunque vi esprimete in una maniera secondo me sincera pulita e poi si sente insomma che siete innamorati di quello che fate no innamorati anche l'uno con l'altro infatti le nostre consorti sono un po' rispettate di questa cosa perché siamo sempre pubblicate però il lavoro è bello il nostro lavoro è bello per questo se aggiri cerchi di far di farti notare di far piacere con la tua musica mettere quello che tu vuoi dare esatto di trasmettere al pubblico diciamo è uno scambio anche di emozioni che noi proviamo sul palco e cerchiamo di regalare anche io questo è quanto bene e parlando un po' di progetti futuri il 23 aprile a Napoli c'è stata l'anteprima del vostro nuovo singolo che si chiama Lucida Follia come nasce questo singolo? allora Lucida Follia nasce è un po' complicato a spiegartelo perché in realtà ti faccio un piccolo preambolo ma proprio giusto piccolo che è quello che noi scriviamo tutti e quattro e Lucida Follia è scritto un po' come per dare la carica a chi magari si abbatte in delle circostanze quindi è una sorta di vuole far nascere la voglia di andare avanti nonostante gli ostacoli che comunque la vita ci mette davanti però ti ripeto i testi sono un po' difficili da spiegare anche perché a volte io personalmente non voglio nemmeno spiegarli per il semplice motivo che vorrei che il pubblico fosse lui a spiegarlo cioè a interpretarlo più che altro non a spiegarlo quindi ognuno ha una sua interpretazione però ti posso già garantire che Lucida Follia è questa la nostra interpretazione personale quindi nasce nasce così è nata tre anni fa scritta tre anni fa e adesso ovviamente finalmente abbiamo fatto questo questo bel video e dei titoli l'abbiamo registrato cioè scusate l'abbiamo presentato all'Alma Frecrea che è un locale bellissimo di Napoli bene e vediamo insomma di domande ce ne sarebbero tantissime anche perché comunque insomma una band e perché tu non hai voluto fare il solista per esempio no? ma assolutamente no è una cosa che non mi appattiene ma non cioè forse mai nella mia vita ho mai pensato una cosa ma poi c'è qualcosa di meglio della musica insieme è un po' come il calciatore no? a volte mi piace molto fare gli esempi calcistici un attaccante non è un attaccante se non c'è un difensore se non c'è qualcuno che gli mette la palla al centro e lui segna di testa quindi io non ho proprio il bisogno fisiologico di sentire sembra una cosa quasi scusami per me schifosa tra virgolette ma ho bisogno proprio di sentire il sudore dei miei compagni no non è una cosa schifosa assolutamente secondo me sarebbe il contrario scusa è una bella cosa quella che hai detto cioè è una cosa veramente fantastica per risponderti ovviamente alla questione perché non ho mai pensato ma non lo penserò mai non mi dividerò mai da questa circostanza che è così bella è come se fosse una droga capito? poi non mi sentirei vuoto nudo senza un'altra persona che condivide con te il tuo stesso progetto e quindi come descriveresti la tua band con un aggettivo? ma 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 folli ma questo non è un aggettivo diciamo folli questo grande potrei fare un elenco di aggettivi un po' come il rock no un aggettivo a rock te la faccio io una domanda non riesci a dare un aggettivo a rock perché il rock è così ampio vasto che non non riesci a dare un aggettivo ben preciso a rock ed è quello che voglio dare all'avvento cioè ci sono tante sfaccettature tante sbavature positive che ci riguardano però soprattutto la follia la follia è una cosa che ci che ci fa attire tantissimo anche perché vuoi anche lucida follia no perché vuoi essere folle ma in modo più lucida non riesco pure la parola bene allora io invito tutti i nostri ascoltatori a seguirvi momentaneamente sulla pagina di facebook le fasi mi raccomando vi assicuro che ne vale veramente la pena e noi quindi siamo qui su Radio Smeraldo a sostenervi e io spero veramente di sentirvi tra qualche tempo e con tante nuove novità con nuove situazioni perché sono certa che ce la farete anche se secondo me ce l'avete già fatta perché comunque chi parla ci vuole di strada è ancora lunga sì però avete già avete già iniziato bene quando si è arrivato non può essere arrivato nessuno quindi noi continueremo a dare quello che sentiamo ogni giorno quindi inoltre una cosa ci hai dato ci hai fatto pubblicità di traduzione su facebook twitter instagram e youtube anche perché è stato presentato il 23 il nostro singolo ma non è ancora visibile su youtube perché sarà in esclusiva sui giornali digitali e poi dopo di dire su youtube quindi vi invito a guardare e dare un'occhiata anche a youtube tenerlo e tenerlo so che coschio e nulla io vi ringrazio federica ringrazio tutto lo staff di radio smeralda ringraziamo anche da parte delle fasi intanto è entrato anche Enzo quindi c'è solo Antonello ciao ragazzi noi vi sosteniamo mi raccomando ci sentiamo presto e niente tutti sulla pagina delle fasi ragazzi buona serata e grazie ciao ciao carissimi ascoltatori un'altra puntata di pomeriggio con il talento termina qui ma io la vostra carissima Federica vi aspetto su Radio Smeraldo mi raccomando iscrivetevi al nostro canale youtube così rimarrete sempre al passo con tutte le novità e con tutte le nuove interviste io vi aspetto alla prossima puntata di pomeriggio con il talento a quattro chiacchiere con e soprattutto per dei fantastici speciali Radio Smeraldo la vostra radio ciao ragazzi grazie grazie a tutti Grazie a tutti